18 novembre perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere apocalisse 3 17 18 bisogno di nulla il capitolo 3 dell'apocalisse dichiara l'autosoddisfazione della chiesa di laudicea sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla ma il signore vuole farle prendere coscienza della sua profonda miseria perché ricerchi presso di lui tutto quello che invece manca non ho bisogno di nulla dirà anche l'incredulo non ho bisogno della salvezza per me va tutto bene da che cosa devo essere salvato non ho bisogno di niente pensa colui che trascura la preghiera dice che richieste farei per me va tutto bene i bisogni degli altri in tutti i campi ci lasciano spesso tanto più indifferenti quanto più siamo ben sistemati la parola di dio ci invita come laudicea ad aprire gli occhi e a comprendere il bisogno che abbiamo di gesù da prima come salvatore in seguito come ragione di vita dio ci dà un consiglio di vitale importanza che è quello di chiedere a lui del collirio per vedere delle vesti e per coprirci dell'oro per essere veramente ricchi in lui sicuramente sì 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 Grazie a tutti